Essere parte del VideoG Master per noi significa essere parte di un processo di formazione, innovazione e crescita continua. Crediamo molto nella formazione degli altri, nei loro coinvolgimenti in aziende e nei successivi percorsi di aggiornamento. Con l'Ogimaster stiamo anche curando un progetto di absiniti, cioè di aggiornamento in confronto per manager signal. Tra essi abbiamo anche Excel e VideoG Master, ora parte attiva della logica dell'Ogimaster. Grazie all'aggiornamento dell'Ogimaster.